Signor Robert, lei è proprio sicuro che il governo degli Stati Uniti nasconda con il cover-up, la presenza extraterrestre, la presenza degli UFO? Assolutamente. Il governo degli Stati Uniti la sta insabbiando. Infatti, quando ho fatto alcune ricerche durante la scrittura del mio secondo libro, mi sono documentato sulla Commissione Condon. Forse le persone hanno familiarità con la Commissione Condon, dal 1966 al 1969. Bene, un investigatore della Condon aveva delle informazioni sul mio incidente e sugli altri episodi che ho citato. Avevano i nomi, perché questa informazione era stata fornita loro da un mio amico, Ray Fowler, Mr. Fowler, che era responsabile dell'impianto elettrico del sistema dei Minutemen, ed aveva dei portavoce alla Malmstrom Air Force Base, che avevano visto gli UFO e che avevano familiarità con tutte le informazioni relative agli UFO sui silos dei missili. Mr. Fowler ha dato all'investigatore della Condon tutte queste informazioni, ma sono state insabbiate. E nel mio libro entro nei dettagli su come insabbiare un ostacolo. L'Air Force ha semplicemente fatto quell'indagine con un falso scopo, per far credere al pubblico che stessero facendo una ricerca seria e scientifica. Ma non era vero. L'Air Force voleva semplicemente essere sollevata dal dover relazionare alla gente riguardo agli UFO. Così, dopo che quell'inchiesta fu completata nel 1969, l'Air Force ha deciso di porre fine al Blue Book ed ha fatto un annuncio. ufficialmente non avrebbero più continuato le indagini sugli UFO. Ma in realtà, naturalmente, le hanno continuate.